ben trovati amici del web nel video di oggi parliamo di entomofagia vale a dire la pratica di cibarsi di insetti ho ricevuto molte domande incuriosite a questo proposito e la cosa interessante è che in molte di queste ricorreva la designazione di cibo del futuro no cosa ne pensi degli insetti come cibo del futuro questa definizione mi fa molto sorridere perché il consumo di insetti in realtà quanto di più preistorico ci possa essere e anche se le varie paleo diete e compagni tendono a sfumare molto su questo aspetto per non allontanare potenziali nuovi adepti ma in realtà i nostri antenati paleolitici anche se noi li immaginiamo sempre con la clava a caccia di bisonti e di mammut si nutrivano assai più regolarmente di insetti così come di piccoli animaletti roditori uccellini insieme a radici bacche e la frutta che raccoglievano vi sono anzi studi che sostanziano l'ipotesi che siano stati proprio gli insetti le principali fonte di proteine concentrate dei nostri antenati e di quei nutrienti come gli acidi grassi essenziali che hanno consentito lo sviluppo stesso del cervello umano quindi più che cibo del futuro sono semmai cibo del passato ma soprattutto sono anche cibo del presente in moltissime aree del nostro pianeta in particolare quelle tropicali e subtropicali dove da sempre gli insetti vengono allevati e cucinati e larve e insetti di ogni tipo si trovano abitualmente sulle bancarelle dei mercati locali in molte zone dell'africa poi in messico c'è un'altra grande tradizione di consumo di insetti e poi ancora in oriente in cina in vietnam in cambogia in thailandia secondo la fao gli insetti fanno parte dell'alimentazione tradizionale di circa 2 miliardi di persone nel mondo in 88 nazioni diverse persino nel vecchio testamento a testimonianza del loro diffuso utilizzo si trovano indicazioni sugli insetti appropriati per l'alimentazione secondo la bibbia si possono mangiare solo gli insetti a quattro zampe che possono volare e saltare specificamente grilli locuste e cavallette mentre gli altri sono da considerarsi inadatti sono evidenti le considerazioni di igiene alla base di questo dettame in modo da escludere gli insetti detriticoli ma in realtà le nostre conoscenze sono oggi più approfondite e ci permettono di allargare un po il numero degli insetti igienicamente sicuri vi sono molti insetti a quattro zampe che non volano e non saltano ma sono ugualmente vegetariani e pulitissimi sempre secondo la fao sono circa 1900 le specie di insetti mangiati abitualmente nelle varie zone del pianeta con al primo posto i coleotteri seguiti dalle epidotteri i menotteri ortotteri che sono appunto quelli biblici e poi tutti gli altri quindi sono una novità solo per noi occidentali ma non abbiamo proprio nulla da inventare e innovare da questo punto di vista dobbiamo solo guardare e copiare quello che già fanno gli altri da secoli e secoli e poi a ben vedere non sono del tutto una novità nemmeno per noi ad esempio il colorante naturale con la sigla e 120 il rosso cocciniglia storico colorante del campari e molti altri liquori aperitivi e prodotti da pasticceria è ricavato dalle femmine dell'omonimo insetto macinando nei gusci anche se dato l'elevato costo oggi è spesso sostituito da più economici coloranti di sintesi e poi senza vederlo ovviamente parecchi frammenti di insetti ce li mangiamo abitualmente pensate al tipico silos pieno di grano dove si fa ogni sforzo possibile ma che ci finisca qualche insetto e qualche roditore è inevitabile la legislazione italiana ad esempio prevede un limite di tolleranza di mille frammenti di insetti e 20 peli di roditori per ogni chilo di farina quindi mangiarveli ve li mangiate già ma oggi vediamo se farlo anche per scelta volontaria in europa gli insetti sono regolamentati dal 1997 come novel foods quindi hanno bisogno di una richiesta individuale corredata di una documentazione scientifica per ogni specie che si vuole commercializzare per il consumo umano e ad oggi ne sono ammessi una decina da singoli stati come ad esempio il belgio e l'olanda ma non l'italia che non ha ancora concesso alcuna autorizzazione dal 2007 ne sono ammessi tre anche in svizzera che sono grilli le cavallette e le tarme della farina oltre agli insetti interi essiccati sono in commercio anche alcuni prodotti trasformati come ad esempio questi sono in belgio i crackers ai grilli affumicati varie barrette energetiche piatti pronti salsine e la pasta fatta con la farina di insetto in svizzera invece se vi fate un giro alla copp vi imbatterete in prodotti come queste barrette di grilli i burgers di tarma della farina la farina di grillo o lo snack di cavallette in italia invece il vuoto legislativo sta creando un po di problemi da alcune piccole aziende che hanno già cominciato ad allevarli e che per ora possono venderli all'estero oppure da noi ma sempre col nostro vizio di fare le cose a metà per cui ufficialmente non si può nulla ma ufficiosamente si può tutto quindi si possono vendere purché sulla confezione ci sia scritto che sono destinati all'alimentazione animale no un po come il tabaccaio che può vendermi la marijuana ma sul pacchettino c'è scritto che è solo a scopo di collezione o di ricerca e che cosa ricerco se non la cartina per arrotolarcela ancora più ridicolo perché ovviamente essendoci il mercato unico in europa se una cosa può essere prodotta in uno stato deve poter essere venduta anche in tutti gli altri per cui paradossalmente voi potete farvi arrivare legalmente dal belgio gli insetti destinati all'alimentazione umana ma non potete ufficialmente comprarvi quelli allevati in italia poi ovviamente trattandosi per ora di prodotti più curiosità per stimolare cominciare a creare un po di confidenza nei consumatori hanno costi certo non competitivi per cui pagate le larve di bacco al pari del filetto di chianina ma se le cose andassero a pieno regime i margini per abbattere i costi sarebbero molto ampi e per ora sono più che altro curiosità ma in effetti negli ultimi anni un sempre crescente interesse verso il consumo di insetti come anche di altri alimenti per noi non convenzionali si sta diffondendo anche nei nostri paesi occidentali principalmente sotto la spinta di due considerazioni tra loro intrecciate una è il bisogno di trovare fonti proteiche supplementari in vista del continuo aumento della popolazione mondiale l'altra è il bisogno di trovare fonti proteiche alternative a quelle attuali per ragioni di sostenibilità ambientale e secondo la FAO che nel 2013 ha pubblicato questo lungo rapporto di quasi 200 pagine che potete scaricarvi e leggere gratuitamente mangiare gli insetti è una risposta valida ad entrambe queste esigenze per una discussione completa di tutte le ragioni potenziali di sostenibilità ambientale vi rimando anche a questa bella review ma citiamo sicuramente le emissioni di gas serra infinitamente più basse circa mille due mila volte più basse rispetto agli allevamenti intensivi di bovini così come la minore produzione di ammoniaca il minore consumo di acqua l'alta efficienza di conversione vale a dire la percentuale di cibo vegetale che mangiano loro che diventa cibo per noi il ridotto utilizzo di territorio che richiede il loro allevamento per chilo di proteine prodotte la loro alta prolificità e velocità di crescita e poi ancora il fatto che possono essere nutriti con sotto prodotti vegetali non usati in alimentazione umana ad esempio in cambogia si usano negli allevamenti di grilli le foglie della manioca di cui noi ci mangiamo solo la radice ed ecco che con gli insetti si possono prendere quei residui organici di bassa qualità che altrimenti sarebbero da buttare via o compostare e trasformarli invece in proteine di alta qualità in messico si fa una cosa analoga utilizzando gli scarti di frutta e verdura per allevare mealworm poi ovviamente quando ci chiediamo se una cosa sia più sostenibile dipende sempre qual è l'alternativa se l'alternativa sono gli allevamenti intensivi di bovini sui nipollame è fuori di dubbio che sia più sostenibile allevare gli insetti se invece l'alternativa è l'allevamento tradizionale accoppiato all'agricoltura con una dieta ideale basata prevalentemente ma non esclusivamente su alimenti vegetali allora tutto questo vantaggio comincia a vedersi un po' meno ma resta certamente il problema dell'aumento della popolazione e quindi più che come alternativa io li vedrei come un alimento in più tra quelli che abbiamo a disposizione anche perché diciamocelo non è che le cavallette mi sostituiscono una bistecca mi forniscono le stesse proteine questo sì ma sono un altro tipo di alimento ok posso farne delle farine da usare come ingredienti posso a limite tentare di farci dei sostituti come burgers o polpette non è che posso farci un brasato o una fiorentina al sangue quindi sono una cosa diversa e come tale li vedrei senza bisogno di metterli in competizione sulla valutazione nutrizionale voi capite bene che essendo quasi 2000 quelli usati al mondo in alimentazione è molto azzardato tentare una valutazione unica perché ognuno ha le sue specificità dovremmo fare 2000 video diversi uno per ciascuno non solo ma il profilo nutrizionale non dipende solamente dalla specie ma anche dallo stadio a cui viene consumata larva pupa o insetto adulto e poi le informazioni che abbiamo su molte specie sono ancora incomplete o frammentari per cui prendetele un po' come una introduzione molto molto generale e proprio per questo vedete che oggi do un po' di riferimenti bibliografici in più del solito che so che nel discorso orale è una cosa un po' antipatica e noiosa ma appunto facendone qui un discorso molto generale è doveroso anche fornire qualche indicazione per chi volesse approfondire un po' i vari aspetti e allora vi indico subito questo bell'articolo che compila i dati disponibili sulla composizione nutrizionale di 236 specie di insetti usati in alimentazione sia come contenuto di macronutrienti che per profilo amminoacidico per composizione delle frazioni lipidiche per contenuto di minerali e per contenuto di vitamine tutti questi valori sono riferiti al secco che anche utilità pratica perché poi di fatto la forma in cui li consumeremo almeno per il momento sia come insetti interi che come farine quindi ingredienti ma è meno utile per fare il confronto con gli altri alimenti animali in cui siamo abituati a guardare la composizione sul fresco perciò vi indico anche quest'altro bel lavoro che riassume i dati completi per 12 specie di insetti in commercio e qui i valori sono riferiti al peso fresco tra tutti gli insetti a disposizione i ricercatori ne hanno individuati un numero ristretto che sono facili e sostenibili per l'allevamento privi di rischi tossicologici o particolari antinutrienti e di ottimo profilo nutritivo e questi sono in primo luogo grilli cavallette e locuste che sono tutti ortotteri poi le larve del bacco da seta silkworm in inglese che è un lepidottero le larve della tarma della farina mealworm in inglese che è un coleottero le formiche nere che sono i menotteri ma anche alcuni coleotteri adulti le termite gli scorpioni e alcuni ragni la cosa da guardare innanzitutto è il profilo proteico che è sicuramente il parametro più caratterizzante della questione no è come fonti proteiche alternative che noi guardiamo in primo luogo agli insetti ebbene il contenuto proteico è sostanzialmente pari a quello della carne sia per quantità che per qualità delle proteine quindi tante proteine e con un profilo in amminoacidi essenziali eccellente alcuni insetti sono prevalentemente proteici gli ortotteri grilli cavallette locuste sono i media quelli con il più alto contenuto proteico mentre altri in particolare i coleotteri alcuni lepidotteri hanno un maggiore equilibrio tra proteine e lipidi e in generale larve e pupa hanno un maggiore contenuto lipidico rispetto all'insetto adulto il profilo lipidico è generalmente migliore rispetto a quello della carne perché ci sono meno grassi saturi e più insaturi in alcuni più malo insaturi in altri più poli insaturi e chiaramente dipende dalla dieta ma essendo erbivori hanno in generale non solo molti insaturi ma anche ottimi rapporti tra omega 3 e omega 6 e infine hanno anche in media meno colesterolo rispetto agli alimenti animali tradizionali sui micronutrienti il contenuto di minerali è comparabile a quello della carne calcio non sono neanche loro una buona fonte in quanto è poco perché gli insetti non hanno uno scheletro mineralizzato ma un esoscheletro di chitina che è un polisaccaride ed è sbilanciato col fosforo con la sola eccezione a quanto sembra delle larve di mosca che hanno invece molto calcio e in quantità doppia rispetto al fosforo in compenso gli insetti sono generalmente buone fonti di zinco e di ferro e anche rame e manganese altro punto positivo il sodio che in generale ne hanno poco il contenuto di vitamine anche è comparabile con un punto di domanda però sulla vitamina b12 che in molte specie di insetti sembra essere più bassa una frequente idea sbagliata che sorge in chi non è abituato al consumo di insetti e che siano animali tra virgolette sporchi perché facciamo l'associazione a rovescio cioè pensiamo a quando lasciamo sporco noi e poi arrivano gli insetti oppure dimentichiamo lì un pezzo di carne e poi ci troviamo le larve di mosca ma in realtà la maggior parte degli insetti e certamente quelli usati in alimentazione umana non sono detriticoli ma sono erbivori che se ne stanno sulle piante di cui si nutrono rifugono gli abitati inquinati e sono certo più puliti di tutti gli animali selvatici che mangiamo e apprezziamo no un branzino pescato una ragosta la selvaggina questi si mangiano di tutto e se ne stanno ovunque quindi semmai sono più sporchi tra virgolette loro nel senso di carica batterica o di contaminanti che potrebbero portare inoltre gli insetti crescono più in fretta quindi hanno anche meno tempo di accumulare eventuali contaminanti siccome molti insetti si nutrono solo di poche o anche di una sola pianta è possibile anche allevarli in modo semilibero e sempre avendo certezza di poter controllare l'ambiente perché basta controllare e favorire le poche piante su cui se ne stanno nell'ambiente in molte zone rurali della cina o dell'africa questo è proprio il sistema di allevamento preferito da noi invece anche in ragione del clima temperato il sistema è l'allevamento confinato fatto negli incubatori sul rischio tossicologico già molti studi sono stati fatti ve ne cito due questo in belgio dove hanno cercato tutta una serie di contaminanti organici inorganici metalli pesanti fitofarmaci pesticidi sia negli insetti di partenza che in una serie di prodotti trasformati venduti in belgio fatti a base di insetti e hanno trovato tutto a posto tutti i residui erano a livelli comparabili o più bassi di quelli riscontrati nei prodotti animali tradizionali come carne e pollame quindi la conclusione vedete nessun rischio supplementare rispetto a quelli degli altri prodotti animali comunemente consumati e questo era uno studio fatto in Europa dove il consumo di insetti è un po' una novità invece se andiamo da quelli che hanno alle spalle una tradizione di consumo millenaria ad esempio in cina troviamo certamente più dati ad esempio questa review prende in considerazione 34 specie di insetti consumati in cina e riassume i dati tossicologici di alcune decine di studi condotti in precedenza e anche qui la conclusione è assenza di rischi significativi sia acuti che cronici sulle allergie come si può essere allergici a qualunque proteina ci possono essere anche alcuni individui allergici a qualche insetto ma non si tratta di allergie molto diffuse per intenderci sono molto più allergizzanti le proteine del latte o quelle dell'uovo sembra però che chi è allergico a molluschi e crostacei forse per le simili proteine dell'esoscheletro sia più al rischio di essere allergico anche ad alcuni insetti antinutrienti particolari non ce ne sono salvo casi particolari di alcune tradizioni locali ma che non riguardano quegli insetti proposti per essere introdotti a scopo alimentare da noi il contenuto di basi purini che anche è generalmente più basso rispetto alla carne ovviamente la chitina dell'esoscheletro rallenta un po l'assorbimento dei nutrienti agendo in modo simile alla fibra anche se in realtà gli enzimi per digerire questo polisaccaride almeno in parte ce li abbiamo quindi non è proprio la stessa cosa ma è simile il meccanismo di adattamento cioè se ne facciamo un consumo regolare il nostro intestino si abitua senza problemi se serve poi si possono anche rimuovere il guscio o le zampe meccanicamente negli insetti più grossi o con trattamenti alcalini in quelli più piccoli ad esempio prima di fare le farine proteiche per un review invece dei vari possibili rischi in generale chimici microbiologici allergologici interazioni farmacologiche antinutrienti e malassorbimento ve li mando a questa review dell'università di torino ma in buona sostanza non c'è nulla di particolare da segnalare ovviamente sono alimenti animali quindi ove fossero commercializzati freschi richiederebbero le stesse cautele della carne catena del freddo pratiche igieniche eccetera per quelli invece essiccati tutte le cautele del caso per evitare ammuffimento e possibile sviluppo di micotossine ma tutte queste cose sono trasversali alla catena alimentare non ci sono precauzioni particolari e del resto come dicevamo gli insetti hanno già passato la proverbiale prova del nonno perché non si tratta di cose nuove ma di alimenti consumati da millenni in altre parti del mondo se ci fossero problemi particolari li sapremmo già il problema principale per l'introduzione del consumo di insetti nei paesi occidentali non è dunque legato a potenziali rischi ma essenzialmente all'attitudine del consumatore che non essendo abituato è soggetto a diffidenza a volte ripugnanza e a percezioni distorte del rischio chimico e del rischio microbiologico se non addirittura l'idea che con gli insetti si possa facilitare la diffusione di malattie rischi che ovviamente non esistono e quando apprendiamo che gli insetti sono abitualmente consumati in molte parti del mondo pensiamo magari che siano alimenti a cui si ricorre spinti da situazioni di estrema povertà o emergenza oppure da popoli culturalmente primitivi anche questo del tutto falso sono cibi che molte persone scelgono di consumare non che mangiano perché non hanno altra opzione quindi ci vuole educazione del consumatore da questo punto di vista e ovviamente educazione all'utilizzo perché uno dice ma come la cucino una cavalletta ebbene la buona notizia è che si può procedere per gradi cominciando ad avvicinarsi ai prodotti derivati come quelli che abbiamo visto all'inizio e il modo più semplice sono certamente le farine la farina di grilli è una farina non vedo occhio zampe e la posso utilizzare per farci biscotti crackers la pasta eccetera se però avete guardato questo video probabilmente siete tra quelli che hanno voglia di fare anche il passettino in più e andare se non altro per fare una prova direttamente sugli insetti veri e propri la prima volta che li assaggiai ricordo ancora nel 2008 ero a bruxelles in questo locale che faceva un aperitivo con gli insetti e non ne rimasi particolarmente impressionato erano secchi e non sapevano praticamente di niente se non del condimento no più o meno come delle chips quelli salati sapevano del sale la formica ricoperta di cioccolato sapeva di cioccolato poi non ci ho più pensato fino al momento di fare questo video quando ho provato un po' più seriamente a fare qualche esperimento in cucina non come assaggio una formica per curiosità ma proprio come proviamo a farci un piatto e devo dire che la mia opinione è molto migliorata ho giocato un po' con i grilli e con il mealworm e mi sono dovuto ricredere perché non sono affatto insapori come li ricordavo hanno un loro sapore e non è affatto male anche voi ovviamente potete fare l'esperimento di servire agli insetti come chips da aperitivo ad esempio prendete un po' di grilli essiccati e sciacquate reidratate appena appena lasciandoli immersi uno o due minuti nell'acqua li asciugate bene li ungete leggermente con dell'olio extravergine di oliva ci mettete una spolverata di paprika dolce origano aglio rosmarino quello che vi piace li mettete in forma qualche minuto ed ecco pronti i vostri insetti di aperitivo per stupire gli invitati a cena oppure sempre gli insetti secchi li potete immergere nel cioccolato fuso sgocciolare bene lasciar solidificare ed ecco pronti anche i vostri insetti ricoperti di cioccolato ma qui siamo sempre nel regno delle curiosità ora invece proviamo a preparare due piatti molto semplici ma che sono piatti veri e propri da servire in un pasto cominciamo con una zuppa di mealworm al madeira abbiamo le nostre larve di tenebrione siccate un po' di madeira o altro liquore o anche vino che ci aggrada e le nostre verdure in questo caso io ho carote cipollotto aglio e funghi enocchi preparo le verdure tagliandole a pezzettini della carota tengo anche il ciuffo verde che come ricorderete ricco di vitamina e in una casseruola con un filo d'olio lascio insaporire un minuto le verdure poi sfumo col madeira aspetto ancora un paio di minuti e infine aggiungo le larve e copro d'acqua regolo a piacere di sale e pepe porto e pollizione e abbasso la fiamma poi lascio cuocere dolcemente per una decina di minuti la nostra zuppa a questo punto è pronta e non resta che servirla con ancora un po' di foglioline di carota fresche e siccome lo so che siete maligni e volete vedere se la mangio davvero qui ho registrato anche l'assaggio come secondo ci facciamo uno stir fry di grilli innanzitutto prendiamo i nostri grilli essiccati li lasciamo reidratare completamente coperti di acqua almeno una ventina di minuti nel frattempo prepariamo un po' di verdura io prendo un gambo di citronella dello zenzero un cipollotto e del bambù d'acqua il bambù d'acqua si chiama così ma non è bambù è il frutto ingrossato della pianta a zizzania latifolia che quella da cui si tiene anche un riso selvatico quando viene attaccato da un particolare fungo non riesce a svilupparsi e si ingrossa assumendo la tipica forma del bambù d'acqua il cuore tenero e bianco è una delle verdure più antiche al mondo e si può consumare sia crudo che cotto e noi appunto tagliamo a fettine il cuore di bambù mezzo gambo di lemongrass che sminuziamo finemente poi schiacciamo anche un po' per facilitare l'estrazione del suo saporito succo aromatico l'intero cipollotto incluso il suo gambo verde e un pezzettino di zenzero e ci aggiungiamo anche qualche foglia di prezzemolo anche lui tagliato finemente e io qui ho usato un po' di ingredienti in omaggio alla tradizione orientale che da secoli cucina con gli insetti ma nulla vi vieta di usare le verdure che preferite e allora scoliamo e asciughiamo i nostri grilli e passiamo ai fornelli in una padella o un wok mettiamo un po' d'olio extravergine d'oliva quando è ben caldo aggiungiamo le nostre verdure e i nostri grilli e lasciamo insaporire il tutto per un minuto poi sfumiamo con della salsa di soia sfumiamo con del vino bianco e lasciamo completare la cottura per 4 o 5 minuti a piacere possiamo aggiungere anche un po' di pepe o di peperoncino e questo è quanto ancora un pochino di prezzemolo fresco e il nostro piatto è pronto in conclusione dunque il primo invito è sbrighiamoci con le lungaggini legislative rendiamo finalmente possibile anche in italia commercializzare gli insetti per l'alimentazione umana così si possono proporre anche in bar e ristoranti e nei supermercati sotto forma di prodotti un po' più accettabili che non una busta di grilli interi con scritto destinato agli animali non dimentichiamoci però che la dieta che dobbiamo promuovere è una dieta con un basso consumo di proteine animali e gli insetti sono proteine animali per cui va benissimo che il loro consumo sia introdotto come una fonte di proteine in più a disposizione per la varietà della nostra dieta da consumarsi in sostituzione non in aggiunta alle altre porzioni di alimenti animali e con tutti i vantaggi che abbiamo visto per la sostenibilità ma se pensiamo invece con gli insetti di poter trovare la chiave magica per risolvere tutti i nostri problemi beh direi proprio di no quello che però mi piace molto è l'occasione che ci danno di esercitarci alla varietà dei sapori noi oggi viviamo in un'epoca in cui se entriamo in un supermercato ci sembra di avere a disposizione un'infinità di alimenti diversi diversi per forma sapore colore ma in realtà siamo le generazioni che hanno i gusti e i sapori più appiattiti uniformati e scialbi di sempre la grande maggioranza della popolazione non tollera più la varietà e l'intensità dei sapori che avremmo a disposizione l'industria ci ha a suo effatto ad alimenti che sono di per sé insapori e che assumono poi il sapore del sale o degli aromi e degli additivi che si aggiungono ma non c'è questa grande differenza tra un pacchetto di patatine salate o una merendina dolce è sempre una base di farina raffinata zucchero grassi che poi con l'aggiunta opportuna di sale aromi additivi assumono le varie forme in cui si manifestano sugli scaffali ma è una standardizzazione che ha ridotto in modo enorme la varietà della nostra dieta appiattendola su un numero ristrettissimo di alimenti ed ingredienti di base quando invece abbiamo davanti dei cibi veri che hanno i loro sapori anche senza bisogno di sale o di aromi no le frattaglie la selvaggina il pesce azzurro ma anche molte verdure il dente di leone le radici amare i lampascioni eccoli no non li vogliamo più pettino di pollo insapore che poi per forza ci devo mettere sopra il sale quindi avvicinarsi agli insetti è secondo me un utilissimo esercizio di ampliamento dei nostri orizzonti alimentari nell'ottica di riabituarci ai gusti del cibo vero non il cibo industriale con i suoi miscogli di farina zucchero olio sale aromi additivi ma il cibo vero con i suoi sapori veri e la natura ce ne offre davvero di tutti i tipi e di tutti i sapori più straordinari e con questo auspicio io mi fermo per oggi vi ricordo il sito www.spaziosfera.com per ulteriori contenuti o se volete inviare una domanda per questa rubrica i nostri account instagram facebook e twitter è spaziosfera e poi anche con gli insetti le regole di base non cambiano vita quieta mente a dieta e moderata dieta tutto chiaro very cool